Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Quanti verifiche al loro stato di salute A tutti i maestri di pietre Non intendevo nuocervi messere Dovete prenderlo subito Cittadini di San Gimignano Pensate orecchio alle mie parole Dovete pentirvi Pentirvi e cercare il perdono Le vostre impietà si hanno scatenato contro l'ira di un demonio Evocato dai nostri peccati Ora si è gira per il mondo avvantato d'ombre di tenebra E dovunque passi La morte lo segue Sapete perché? Perché avete traviato e sacrificato la vostra libertà Per quel maledetto Lorenzo de' Medici Non siete che pantozzi Chiami dei cordoni della presidizione Ammaliati da un parole delle notte Avete perduto la virtù Avete perduto la dignità Avete perduto la fede E questo attira i demoni Li invita a fascersi delle nostre anime Ve lo faranno Mentre voi brancolate nell'ignoranza Sappiate che uomini provi sono morti per proteggervi dal male Uomini che volevano salvare queste terre Per purificarle Unitevi a me in preghiera figli miei Così che insieme possiamo resistere a questa oscurità Ascoltate O cieli Io voglio parlare Oda la terra le parole della mia bocca Stilli come pioggia la mia dottrina Scenda come rugiada il mio dire Come scroscia sull'erba del prato Come spruzzo sugli steli di grano Voglio proclamare il nome del Signore Date gloria al nostro Dio Egli è la roccia Perfetta è l'opera sua Tutte le sue vie sono giustizia E' un Dio verace E senza malizia Egli è... Vattene via demonio Abbi rispetto per la morte amico mio Te lo do io il rispetto No Io Che tu possa al fine trovare riposo Nel corpo e nella mente Requiescat in pace Grazie a tutti Egli pari Egli pari Egli pari